Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono sempre Capezza, questo ce lo siamo imparati a memoria, nel video di oggi vedremo un piccolo upgrade per le nostre stampanti 3D, facile, semplice ed economico, ma vediamo di che si tratta subito dopo la sigla. Dunque chi come me, possessore di stampanti 3D, non si sia mai imbattuto con problemi di adesione al piano di stampa, ovvero chi compra una stampante 3D molto probabilmente ne farà un uso abbastanza spropositato, come nel mio caso. Quindi succede che con il passare del tempo purtroppo il nostro bed, il nostro piano di stampa, andrà a rovinarsi. Può succedere che dei pezzi di vetro, dei pezzi del piano appunto, ad esempio come io, il piano di stampa che è dell'Henny Kubik i3 Mega, perciò ha in dotazione un piano di stampa Ultra Base, il che vuol dire che teoricamente non andremo mai a utilizzare dei nastri o delle superfici per aumentare il nostro grip sul piano di stampa, perché l'Ultra Base è stato progettato apposta per risolvere tanti tanti problemi di altre stampanti, di altre marche, ovvero potremo stampare rettamente nel PTG, del PLA, dell'ABS e di tante altre materie. Ma a volte purtroppo può succedere che nella parte centrale, che sarà quella che useremo di più, almeno nel mio caso non sto a guardare di stampare una volta o non ancora una volta in un altro, può capitare appunto di stampare, ripeto, al centro e quella parte viene a consumarsi. Quindi si risolve mettendo del nastro di carta, come vediamo nelle immagini, ma a volte non basta nemmeno quello, quindi saremo costretti a usare della lacca. Ma cercando in rete ho trovato una soluzione alternativa, veramente semplice, veloce e molto molto economica. Di cosa parliamo? Parliamo di fogli adesivi che vanno direttamente sul nostro piano di stampa. Questi fogli ho letto delle recensioni prima di andarle ad acquistare e ne parlano veramente, veramente bene. Perciò acquistati su Amazon, chiaramente lascio sempre il link qui sotto in descrizione. Inoltre voglio ricordarvi che il prezzo è veramente irrisorio, perché cinque fogli di questi li abbiamo pagati 6 euro. E li andiamo ad unboxare insieme e faremo quindi subito un test. I fogli sono di un materiale molto molto simili alla carta abrasiva, perché appunto dovranno garantirci un grip non indifferente. Il foglio apparentemente sembrerebbe, avete presente i fogli, i cartelloni, i cartoncini Bristol che hanno quel semi ruvido? Bene, questi fogli raffigurano proprio quello. La cosa bella è che hanno già in dotazione un loro sistema adesivo. Perciò adesso andiamo a rimuovere il nastro che io ho messo di emergenza, il nastro carta, ovvero quello da carrozziere, sul mio Ultra Base e andiamo a mettere uno di questo. Perciò proviamo a fare subito una stampa. Quindi andiamo ad incollare questo. Prima di tutto puliamo il piano di stampa, incolliamo questo, facciamo un test della misurazione d'altezza e andiamo a lanciare una stampa e vediamo se veramente offre il grip quello che ci assicurano e se dopo una stampa non si rovina, perché c'è chi dice che possono essere usati per almeno anche 5, 6, 7 volte. L'importante, un consiglio che vi do sempre, è di far freddare il pezzo prima di poter essere rimosso, altrimenti si potrebbe rischiare di rovinare subito il nostro piano. Perciò, come detto prima, andremo a rimuovere il nastro carta che fa il suo sporco lavoro in qualsiasi caso, perché in condizioni di emergenza questo può aiutarci veramente tanto. Io sicuramente non riuscirò in questo video a farvi vedere il piano di stampa che è rovinato, ma posso garantirvi che su tutta la circonferenza ha ancora un buon grip, mentre la parte centrale, ahimè, devo dire che si è consumata notevolmente. Perciò adesso mi armerò di alcol isopropilico, darò una bella spruzzata e comincerò con un pezzo di carta pulito a rimuovere tutte le impurità che lascia la colla del mio nastro. Perfetto, come possiamo vedere dalle misure, il perimetro giustamente, per fortuna, è poco poco più piccolo rispetto al piano di stampa. Perciò non avremo nessun problema a metterlo o in un verso o in un altro. Anziché staccare tutto il foglio di protezione del biadesivo di dietro, io ne staccherò un pezzettino solamente, al fine di non rovinarlo, e comincerò a metterlo in modo parallelo almeno su un fianco. Beh, posso dire che l'adesivo si sente che è veramente, veramente molto potente, ragazzi, e sicuramente quello che scrivono sulle recensioni è veritiero. Perciò adesso io comincerò in questo modo. Ok. E lo uso come se fosse un normale foglio di carta adesiva. Così vado storto. Allora lo rimetto. Evitiamo, ecco, magari di mettere e togliere, mettere e togliere, perché chiaramente poi l'adesivo perderà di forza, di potenza. Delicatamente andrò a togliere mano a mano un pezzetto di carta di protezione e senza far venire fuori bolle, che poi potrebbero andare chiaramente a compromettere la superficie, l'integrità del piano di stampa, comincerò a strofinare. Beh, posso dire che non è una cosa difficile, ma non è nemmeno facile, perché chiaramente se si dovesse andare a tirare troppo il foglio di carta, chiaramente creerà delle grinze, come quello che già sta cominciando a fare. Perciò delicatamente andrò a... Ok. Giustamente se questo non spiano in modo perfetto, le nostre stampe non potranno venire in modo egregio. Stanno vedendo delle piccole grinze, non so se dopo riusciamo a toglierle. Ragazzi, il foglio è veramente, veramente fino e tende a creare queste piccole grinze che danno veramente fastidio. Con l'aiuto di questa piccola paletta vedo se riesco a far spianare in modo migliore la mia carta, ma la grinza qui purtroppo già si è fatta. Adesso non so se dipende dall'angolazione della carta, ma proverò a farla mettere nel miglior modo possibile. Ho paura che, vedete quello che succede appunto, puntando troppo magari possa andarsi a rovinare la carta o addirittura a strapparsi. Beh, come primo foglio che monto, posso dire che sono andato abbastanza bene. Se avessi tolto prima tutto l'adesivo avrei rischiato di meno, ma il problema è che se magari la carta riesce ad attaccarsi tra le sue pareti stesse, magari viene una grinza troppo, troppo diciamo pronunciata e dovremmo buttare così il foglio. Però adesso, una volta montato, andiamo a vedere sul piano di stampa come funziona sia lo spessore e sia appunto, come detto prima, il grip appunto per i nostri pezzi. Bene, effettuiamo la nostra prima accensione e faremo subito intanto un test per vedere la misurazione. Ok, farò avvicinare il nozzle al piano di stampa, dopo staccherò, scollegherò i motori, toglierò tensione tra i motori e vedremo quello che succede con la misurazione. Ok, motor off. Siamo nella condizione adesso di poter fare la nostra calibrazione tra nozzle e piano di stampa. Con il tempo ricordiamo inoltre che il nostro piano di stampa potrà tendere ad imbarcarsi in un verso o in un altro, così grosso modo dovremmo esserci. Quindi rifacciamo l'allineamento del piano di stampa insieme al nostro estrusore e andiamo a caricare un file intanto da stampare come prima prova. 02 facciamo una cosa abbastanza veloce, perciò sappiamo già che la qualità della stampa non verrà in modo eccelso perché stiamo stampando a 02 e non a 01, ma per abbreviare i tempi di estrusione, i tempi di stampa. Vado a selezionare sulla mia stampante i3M desk mounted. Ok, andiamo col print, adesso lui comincerà a scaldare e vediamo quello che succede fin dall'inizio. In genere succedeva con il vecchio problema che quando cominciava a destrudere i primi layer se li portava via creando così tutto un pasticcio, una voltiglia di filamento. Vediamo adesso se già da i primi layer, i primi strati rimarrà attaccato, rimarrà appunto sul piano di stampa come sono quelle le mie aspettative. Speriamo quindi di aver fatto un buon acquisto. Non voglio pensare che sia prematuro, ma ragazzi i primi layer sembra che stiano aderendo perfettamente al nostro piano di stampa. Sembra che la stampa sia iniziata in modo egregio. Per il momento non voglio cantare vittoria, ma penso di aver risolto il problema. Ok ragazzi, eccoci giunti al momento decisivo. La nostra stampa è fatta, il piano di stampa è abbastanza tiepido. Adesso andiamo a fare la rimozione per vedere il nostro pezzo come si stacca. è infatti come immaginavo. Avevano detto nelle recensioni che il pezzo si sarebbe attaccato al foglio. Adesso dovremo fare in modo di staccare la nostra stampa senza compromettere il foglio incollato diciamo sul piano di stampa. Quindi bisognerà fare attenzione perché andando a usare la nostra spatolina non useremo più sul vetro, ma la stiamo usando sulla carta. Adesso vediamo se riesco delicatamente a farla staccare senza distruggere il mio foglio. Io suppongo che con un po' di attenzione, un po' di calma forse è un'operazione che si riesce a fare. Ok. Beh chiaramente rimane un minimo segnata perché chiaramente abbiamo stampato qualcosa. Con l'occasione abbiamo fatto questa stampa che servirà a contenere le nostre cuffie quando ascolteremo della buona musica sulla nostra scrivania. Con questi buchi si fisserà al di sotto del piano in questo modo e questo sarà l'archetto per sorreggere appunto le cuffie. Dovevamo fare una stampa di prova e abbiamo unito l'utile al dilettevole stampando questa. Vediamo che la carta rimane integra con qualche piccola grinza perché chiaramente va ad incollarsi nella parte sotto del pezzo appena estruso. Vediamo che non ci sono residui di carta e sinceramente la superficie inferiore, quella che era attaccata al bed, è molto 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 liscia. Non so se riesco a farvela vedere ma è veramente molto levigata. Quindi niente da dire a questo tipo di carta. Anche questo video termina qui. Avete visto quanto è stato semplice riuscire a sistemare con veramente pochi soldi il nostro piano di stampa senza dover andare a cambiarlo e a fare tutti i vari settaggi nuovamente per riposizionare il piano nuovo. Le solite raccomandazioni? Iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto. Ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video sul canale. Spero di esserti stato aiuto anche con questo tutorial. Ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie per essere stato con me.